Appena finito il Gran Premio di Germania, settimo round del Moto Mondiale e di conseguenza Racing Podcast a caldo per parlare delle quattro categorie del campionato dei prototipi del motociclismo, nella classe regina un gran duello tra Jorge Martín e Francesco Bagnaia ha visto lo spagnolo vincitore che di conseguenza si candida come di fatto anti-Bagnaia, netto che comunque il Mondiale è ancora molto aperto e siccome non siamo nemmeno a metà della stagione, In Moto2 una vittoria perentoria di Pedro Acosta, in Moto3 una grandissima battaglia tra Dele Zonku e Ayumu Sasaki con vincitore il turco e alla fine anche la Moto E che ha visto Jordi Torres confermarsi in alto in classifica, ma andiamo con l'ordine e partiamo dalla classe regina, una classe regina che fin dalla gara sprint ha visto un solo protagonista al comando, ovvero lo spagnolo di Team Ducati Pramac, ovvero Jorge Martín che appunto al sabato di fatto domina la gara corta di 15 giri e nella gara lunga da appunto lunghezza doppia, quindi 30 giri alla meglio sul leader del campionato Francesco Bagnaia, a differenza però della gara del sabato, la gara della domenica si è concentrata molto con un duello tra le prime due posizioni con queste due Ducati veramente sugli scudi, soprattutto Martín che sembrava averne qualcosina in più, Bagnaia però sappiamo che con questo pacchetto è perennemente a posto e settato alla grande, di conseguenza non è mai da trascurare il campione regnante di categoria come leader ed evidentemente come anche sfidante del vicedore di turno, alla fine la gara si risolve in volata, di fatto Bagnaia e Martín imprimono un passo che era sensazionale, difficilissimo, impossibile va detto, da raggiungere per chiunque altro alla fine il pilota spagnolo con la carriera numero 39 ha la meglio e va addirittura alla vittoria arrivando a un distacco di fatto molto ridotto perché parliamo di 16 punti di distacco tra gara sprint e gara lunga che adesso separa evidentemente Martín e Bagnaia prima dell'ultimo round, prima della pausa estiva, vale a dire Assen che si correrà settimana prossima ancora una volta dunque sarà un duello ovviamente che vedrà Bagnaia protagonista, cambia evidentemente l'avversario questa volta, probabilmente sarà Martín un po' più staccato in realtà è Benzichi che ha finito quarto perché alla fine il polio della MotoGP è ancora una volta una tripletta Ducati ma vedremo come dalla classifica è molto facile avere delle triplette Ducati in quanto sono otto moto e spesso sono nei primi dieci il polio riceve appunto lo completa il francese Johan Zarco che comunque è quinto assoluto in classifica del mondiale Bagnaia è sempre leader, 160 punti, a 144 c'è invece Orge Martín quindi 16 punti di distacco sono confermati, Martín in queste ultime tre gare soprattutto ci ha rivelato il pilota che molti addetti ai lavori evidentemente volevano vedere, quel pilota talentuoso che ha ben costruito la sua classe e ovviamente anche la sua carriera nelle categorie propedeutiche e adesso tolti gli infortuni che finalmente sembrano sempre alle spalle Martín sta facendo vedere quello di cui è capace, l'abbiamo già visto nella stagione d'esordio che appunto aveva fatto Paul e anche delle vittorie e qui evidentemente è l'uomo di rincorsa della classifica siccome evidentemente un po' Binder, un pochino Zarco e un po' anche Bezzicchi sono un attimo andati indietro per ragioni diverse Bagnaia invece d'altro canto continua ad avere un ruolo di marcia veramente invidiabile perché tolto appunto lo 0 di Argentina, 16esimo e i due ritiri appunto tra Francia e Austin, Texas di fatto sono delle prestazioni che non hanno mai visto scendere dalla seconda posizione se Bagnaia fosse costante come Bautista lo fosse in Superbike è vero che staremmo parlando di un altro tipo di mondiale probabilmente già indirizzato così invece è un mondiale, sì è vero indirizzato verosimilmente verso un duello tra Bagnaia e Martin ma comunque sicuramente molto più interessante della stessa Superbike e anche della Formula 1 dove abbiamo nettamente un dominatore, apro parentesi, stasera la Formula 1 corre in Canada al circuito Gilles Villeneuve con tanto per cambiare Verstappen in prima posizione ma tornando evidentemente al moto mondiale alla fine il duello è stato molto spettacolare molto bello per le prime due posizioni perché di fatto si è deciso in volata con Martin che stampa appunto il pilota piemontese Francesco Bagnaia il più grande rimpianto va detto è su Brett Binder che poteva arrivare comodo in una terza posizione e dunque di fatto confermare una quarta posizione nel mondiale in realtà appunto la grafica di Wikipedia inglese è sbagliata perché Brett Binder con questo zero finisce quinto e quarto assoluto in realtà è appunto Johan Zarko che anche lui è un pilota molto costante parliamo del terzo podio consecutivo anche per lui sempre con la Ducati del team Pramac ma Zarko è il recordman mondiale di podi in MotoGP senza aver mai vinto ed è qualcosa di clamoroso per le statistiche comunque Zarko è un pilota che non brillerà per evidentemente il talento purissimo come altri piloti in questa classe regina ma ricordiamo che Zarko è un bicampione del mondo Moto2 e comunque è un pilota che in MotoGP ci sa stare assolutamente e infatti i risultati parlano per lui ancora una volta podio per il pilota francese stranamente ci sono quattro Ducati nelle prime quattro posizioni anzi cinque nelle prime cinque perché quarto è Marco Bezzecchi che dopo la vittoria in Francia sta un attimo perdendo dei colpi dopo l'ottavo posto al Mugello e il quarto in Germania evidentemente arranca un pochino ma probabilmente non è Bezzecchi l'uomo più indicato per il titolo del mondo come contendente a Bagnaia appunto secondo me a maggior ragione questo weekend del Saxo riga consacrato Jorge Martin come anti-Bagnaia quinto è Luca Marini per appunto completare cinque Ducati nelle prime cinque posizioni sappiamo che sono otto Moto della casa di Borgo Panigale in gara tutte le volte e a sto giro ce ne sono ben otto nelle prime nove posizioni perché appunto tolta l'eccezione Jack Miller che finisce sesto con l'unica KTM rimasta in gara per via appunto del ritiro di Binder che ci ha pentato una mina clamorosa al Saxo Ring le altre sono tutte Ducati con settimo Alex Marquez Ducati del team Gresini ottavo Enea Bastianini che comunque si sta riprendendo dopo l'inizio di stagione di fatto che nulla ha visto protagonista causa infortunio e nono è Fabio Di Gian Antonio con l'altro Ducati del team Gresini chiude la top ten comunque un'altra moto italiana ovvero quella di Miguel Oliveira Aprilia del team RNF è stata una gara del Saxo Ring che va detto è un po' un'ecatombe per quanto riguarda i piloti partenti perché sappiamo che Juan Mir è infortunato e non ha corso questo gran premio non c'era neanche Mark Marquez che si è infortunato per l'ennesima caduta dopo il warm up del Saxo Ring e non ha corso nella pista che probabilmente l'avrebbe visto più favorito per fare un risultato di rilievo al netto che Marquez ogni gara la sta lanciando evidentemente per le terre ed è anche abbastanza protagonista di episodi controversi vedi per esempio anche oggi al Saxo Ring il piccolo alterco diciamo così tra lui e Johan Zarco e non è il primo in questa stagione gli altri piloti sono appunto infortunati vedi per esempio Alex Rins sempre su Honda per un parco piloti che ha visto soltanto 17 arrivi al traguardo su soltanto 19 partenti le altre posizioni le andiamo via via a riepilogare undicesimo è Augusto Fernandez Guerra unico rookie della categoria con il team Gas Gas dodicesimo è Franco Morbidelli con una Yamaha che è ovviamente la delusione del giorno ma in generale dell'intero mondiale ma parlare ancora una volta della Yamaha secondo me è come sparare sulla croce rossa in tredicesima posizione abbiamo appunto Fabio Quartarò che è l'emblema della delusione del giorno per darvi l'idea Fabio Quartarò ha totalizzato 57 punti nell'intero campionato che sono praticamente due in più di quanti naturalizzati bagnaia nelle gare sprint segno che evidentemente qualcosa sul francese non va ma non in quanto talento puro perché sappiamo che Quartarò secondo me insieme a Marc Marquez al netto di simpatia e antipatie è il piatto più talentuoso che ci sia in pista di talento puro in questo momento e in terza posizione possiamo mettere tranquillamente Jorge Martina e Francesco Bagnat per quanto riguarda la mia modesta opinione da tifoso però evidentemente Quartarò sta pagando una Yamaha che è veramente un cancello quattordicesimo invece è Takahaki Nakagami con l'unica onda superstite in gara e avete degli altri che chiudono evidentemente la classifica con un Alec Spargarò sedicesimo anche qui altra delusione del giorno secondo me per quanto riguarda la gara del Saks Ring ma sappiamo che Alec Spargarò è più convalescente che altro e ultimo il pilota di casa Jonas Folger che sappiamo sostituisce Polizio Spargarò sulla seconda Gas Gas comunque diciassettesimo posto per il pilota tedesco che ripeto non è più ai livelli di quando correva Yamaha Tech 3 se la gara della MotoGP è stata molto bella per quanto riguarda le prime due posizioni un po' diversa invece la gara della Moto2 che ha visto un dominatore che anche qui accorcia in quanto riguarda il primo posto del mondiale perché Pedro Acosta bissa il successo del Mugello e per lui suona la marcia reale così come ha suonato per Jorge Martin quarta vittoria di stagione per il pilota più talentoso secondo me della Moto2 e che sarà probabilmente prossimo uno sbarco in MotoGP se non l'anno prossimo probabilmente quello dopo ancora ma con una marcia del genere è veramente difficile pensare a un esito diverso secondo è comunque Tony Arbulino leader del mondiale che limita clamorosamente i danni e mantiene anche qui un distacco contenuto sono 139 punti di complessivo ovviamente per il pilota di Garbagnate milanese sono 124 invece per Pedro Acosta terzo è Jake Dixon al terzo podio della stagione secondo consecutivo e anche Dixon è una statistica molto particolare perché ha fatto nove podi in carriera in Moto2 tutti appunto con il terzo posto che anche qui per le statistiche è qualcosa di clamoroso un mondiale Moto2 combattuto non la gara perché evidentemente Acosta ha allungato i momenti decisivi su Tony Arbolino che ha dovuto anche difendersi per un certo punto della gara nel finale soprattutto da Jake Dixon alla fine questo secondo posto per Tony Arbolino vista la situazione vale un po' come una vittoria perché evidentemente era importantissimo evitare i danni prima di Assen vedremo se appunto nella pista olandese si consumerà ancora una volta il duello tra lo spagnolo e l'italiano con appunto l'italiano leader ma sono soltanto 15 punti di distacco tra appunto i partiti di Garbagnate e lo spagnolo Pedro Acosta gara della Moto3 invece che adesso andiamo invece a parlarne una Moto3 che ha visto un dominatore scritto e non è quello che ha vinto ovvero Ayumu Sasaki che fa una qualificazione straordinaria in 1.25.1 praticamente con un tempo simile Moto2 eppure a vincere è Denis Honku il fatto gemello di Jan che corre in Supersport Next Gen vince per la prima volta in carriera in Moto3 per lui suona la marcia dell'indipendenza l'inno nazionale turco per una gara della Moto3 clamorosa non era il solito macello di gruppo con 20 miliardi di pilota giocarsi il titolo di gara ma è stata una lotta a due con Sasaki che è partito evidentemente allungando e premendo il suo passo ma alla fine Denis Honku rimonta e alla fine all'ultima curva dell'ultimo giro alla meglio soprattutto giapponese che poteva evidentemente raccogliere molto di più sicuramente Sasaki è il più grande deluso di questa gara della Moto3 perché in questa seconda posizione evidentemente Sasaki non ci voleva stare non ci doveva stare per il passo impresso soprattutto per la grande prova in qualificazione comunque Honku ha avuto per una volta la lucidità di effettuare l'attacco al momento giusto e si è portata a casa appunto la prima vittoria della carriera e si sa il quinto posto assoluto della classifica in Moto3 appunto Sasaki invece con questo secondo posto sale a 479 è comunque un'eternità di distacco rispetto al leader del campionato ovvero Daniel Olgado pilota spagnolo del team KTM che ovviamente limita che ovviamente limita anche qui fortemente i danni terza posizione per il pilota con la carriera numero 96 e terzo podio consecutivo dopo le due grandi vittorie di Le Mans e Mugello 125 punti per Olgado il più vicino inseguitore è Raume Masia con 84 ma ovviamente sembra già un distacco più consistente il mondiale Moto3 sembra davvero quello più indirizzato delle tre categorie principali di contorno della MotoGP la quarta categoria è la MotoE che anche qui ha un campionato del mondo indirizzato con appunto Jordi Torres che si conferma in prima posizione con appunto il pilota spagnolo che vince gara 1 al Sachs Ring davanti al pilota svizzero Randy Krumenacher grande esperto della Supersport in particolare al primo anno in MotoE e terza posizione per Matteo Ferrari che compie una grandissima gara Ferrari era stato penalizzato con una squalifica dalla Q2 per degli infrangimenti tecnici è dovuto partire dalla dodicesima posizione ha rimontato fino alla terza in gara 1 in settima in gara 2 ma il podio di Ferrari è comunque di fondamentale importanza gara 2 invece viene vinta da Hector Gazzò che non aveva mai vinto in MotoE dunque prima vittoria di carriera anche per l'ex pilota della Moto2 in questa categoria monomarca Ducati in seconda posizione abbiamo Mattia Casadei pilota italiano giovane e molto promettente anche lui comunque molto esperto della categoria MotoE e terza posizione invece per quanto riguarda ancora una volta Jordi Torres che nel weekend del Sachs ringa lunga sul primo dato inseguitore nella Coppa del Mondo appunto Matteo Ferrari con un distacco che si aggira di fatto alla vittoria di vantaggio sono di fatto 28 i punti che separano appunto Ferrari da Torres apro due velocissime parentesi abbiamo due piloti che seguo con attenzione in questa categoria e di cui andiamo a parlare l'ultima della classifica generale è Maria Herrera che fa punti in gara 1 invece viene fuori dai punti in gara 2 altro pilota che seguo con molta attenzione è Luca Salvadori sappiamo benissimo che Salvadori oltre che essere uno youtuber è prevalentemente un pilota che con i vari trascorsi del National Superbike anche nell'Europeo Stock 1000 si è costruito una più che discreta carriera è arrivato in MotoE ha fatto punta in tutte le gare non in questa gara perché è stato anche lui penalizzato per lo stesso motivo di infrangimento d'enco di Matteo Ferrari e di conseguenza ha dovuto partire a Fer the Music e ha fatto due sedicesimi posti quindi si interrompe la stricca di zona punti per il numero 23 tutte e quattro le categorie quindi MotoGP Moto2 MotoE e Moto3 ovviamente partiranno alla volta di Assen per correre l'ultima gara prima della pausa estiva sarà ancora una volta settimana prossima è stato un trittico di gare il MotoGP con Mugello Saxring e appunto Assen che si guarderà la settimana prossima e ovviamente arriverà il prossimo Racing Podcast domenica al solito orario sul mio canale e saluto da parte di Matthew Torgard ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti